Per prima cosa ringrazio la società per l'acquisto di Miliza, ovviamente sono strafelice che lei abbia accettato di far parte della nostra squadra, perché lei? Perché ci porta sicuramente esperienza, ci porta tanta qualità, ci ha sempre fatto male quando abbiamo giocato contro non ultima in Coppa Italia, la Final Four, ma al di là delle prestazioni contro di noi, è una giocatrice secondo me importante perché è una giocatrice che capisce il gioco, quindi non solo un terminale offensivo, con buona capacità di difendere, ma una giocatrice anche di sistema che sa mettere le proprie compagne in condizioni tali per cui possano rendere. Poi non vi nascondo che mi piace l'idea della sua metà serba, perché secondo me ogni stato, ogni entità ha una sua cultura, ha un suo modo di approcciare gli allenamenti, di approcciare le partite, una mentalità e lei ce l'ha da vincente e quindi è per questo che questo gruppo secondo me sarà, lei per questo gruppo sarà fondamentale e spero che il gruppo sia fondamentale per lei per farla rendere nel migliore dei modi. Innanzitutto ciao a tutti e vorrei ringraziare la società per avermi chiamato perché io mi sento onorata, visto che comunque ritengo questa società molto seria e molto professionista e avermi chiamato qua con un progetto chiaro e importante mi inorgoglisce, insomma, sono molto felice. Nonostante mi attribuisca un'esperienza e tanta capacità, io penso di essere una persona che deve ancora crescere molto e ad esempio imparare a trasmettere quello che io ho dentro in campo e in allenamento, imparare a trasmetterlo in modo giusto alle mie compagne per essere un eventuale leader giusto. Una società molto seria e con delle basi molto solide e mi ha sempre affascinato la società, probabilmente è per questo che magari mi trovavo sempre bene a giocare contro perché ero un po' più stimolata e poi il Veneto mi manca come regione dove giocare, quindi grazie anche per questo, posso metterci una X. Ma ho visto, io ho firmato quasi subito, appena finita la stagione e piano piano ho visto formarsi la squadra e mi è piaciuta sempre di più, conosco quasi tutte le ragazze, alcune personalmente con Ash ho anche giocato insieme un anno ed è una ragazza con la quale avrei voluto rigiocare molto volentieri perché mi piace e tutte le altre ragazze comunque sono sempre state degne avversarie e quindi penso che quest'anno la squadra sia stata fatta, parlo umanamente, molto bene, poi speriamo di amalgamarci come gruppo e come squadra in campo e di dare il meglio.